La maggioranza Ursula è nata in Europa, e sono stato io uno degli artefici di quello che è successo, è nata per impedire che i socialisti che avevano perso le elezioni a livello europeo occupassero il posto di Presidente della Commissione Europea, che toccava, secondo i trattati, alla forza che aveva ottenuto il miglior risultato. E quella forza era il Partito Popolare Europeo. La scelta di fare quella maggioranza è stata frutto di una volontà politica che ha sventato il tentativo, e Conte lo sa bene, perché lui sosteneva Timmermans come Presidente della Commissione Europea. Ci siamo battuti contro. Matteo Renzi si ricorda una telefonata che gli feci da Presidente... Matteo Salvini, scusa. Matteo Salvini si ricorda bene, scusa. Matteo Salvini si ricorda bene. Aveva una crisi di identità. Matteo Salvini ricorda bene la telefonata che gli feci da Presidente del Parlamento e dissi l'Italia non può accettare un Presidente socialista della Commissione Europea perché i socialisti hanno perso le elezioni e il Partito Popolare le ha vinte. Infatti lui intervenne e Conte fece marcia indietro e alla fine abbiamo avuto Ursula von der Leyen, espressione del Partito Popolare europeo Presidente della Commissione Europea. Quindi tentativi italiani di trasportare quella esperienza, quella vicenda in Italia non hanno nulla a che fare e non ci interessano nella maniera più assoluta. Ma secondo me anche Matteo Renzi era convinto, è uguale. Quello sì, però il Governo ci sono io, non quell'altro. Bene, grazie, grazie.